Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Già da partiamo con la novità di questo periodo. Il torneo del Titano, una battaglia uno contro uno. Eh sì, si sfidano a 24 Gormiti per arrivare alla vittoria. E ci sarà soltanto un vincitore. Eh, chissà chi sarà. Il mio preferito sicuramente. Vogliamo vedere un video, Gianni? Ok. Guardiamo questa battaglia. A proposito di battaglie, è arrivato il momento di un torneo. Io non ne so niente. Come no? È il torneo che ho creato io, quello tra me e te. Che c'è da un sacco di tempo già, dalla sfida con i collezionabili. Sei pronta a perdere? No, Gianni, perché vincerò. Vado a prendere le bustine. Andiamo, Gianni. No, no, vado io a prendere le bustine. Ferma con la magia. Gianni! Bambini, ancora cercare le bustine. Eh, Giada, non le trovo, erano di qui. Gianni, vieni un attimo qui. Eccoci, allora, sei pronta a combattere? Gianni, ti avevo detto di non fare la magia. Siamo in tre ore a cercarne, tanto? Cioè, dai, iniziamo. Va bene, allora. Sei pronta a perdere? Dillo a tutti i bambini. La risposta è? No, sono pronta a vincere. Come no, è sì, dai. Allora, io scelgo questa. Allora, non male anche il mio, eh? Non male. Ehi, 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 ehi. Fammelo togliere dalla custodia. Allora, io ho trovato, mi piace un sacco il popolo del magma, ovvero il mio preferito. Vediamo un po'. Urik! Io, invece, ho trovato Zarnok. Bello, Zarnok, è cattivello. Sì, però, allora, Giada, mostriamo insieme la card, perché abbiamo lo stesso numero. Che numero abbiamo? Il numero? Otto! Siamo pari! Quindi questa volta nessuno ha vinto. Dai, vattene un cinque. Mi piace così. Sì, anche a me, dai. Nessuno ha perso, nessuno ha vinto. Carina, ogni tanto ci sta la parità. Sai cosa faccio con questi gormiti? Che cosa fai? Giada, cosa si fa adesso? Li collezioni. Sì, li colleziono da una vita, ma... Ora c'è il ma, il ma... Il mare. Il mare. E quindi dove me li porto? Al... Mare! Al mare! Sì, in vacanza! Dammi anche il... Ma, Johnny, a proposito di vacanze... Sì. I gormiti accompagneranno la nostra estate con tanto gormitico divertimento. Giusto, stiamo preparando delle attività incredibili presso alcuni villaggi per famiglie al mare. Continuate a seguirci per avere tutti i dettagli. Eh, passano che me lo porto al mare. Sì, però, Johnny, ci sono anche tantissime altre novità e abbiamo pochissimo tempo, quindi andiamo, dai. Mi porto questa, mi porto questa. Johnny, guarda un po' che cosa ho qui. Ho visto già, dai, Panini Magazine, tra l'altro lo troviamo ancora in questo mese in edicola. Sei curioso di rivedere un po' cosa c'è dentro? Sì, perché uno ne vorrei... Anche io, Giada, di Panini Magazine. Scusa, eh. Scusa. Allora, possiamo trovare le nostre storie gormitiche e inedite? Sì, i fumetti, i fumetti bellissimi che noi leggiamo sempre. Oh, ma che bello il Tempio Misterioso. Che bello! Eh, però, Giada, c'è qualcosa che non va. È un po' senza colori, vero? È senza colori, a me le cose senza colori non mi piacciono. È un po' triste. Eh, ho capito, a me le cose senza colori non mi piacciono. E allora coloriamo, dai. Allora, io voglio fare le nuvole. Cosa coloro? Con la pistoletta d'acqua? Ci penso io, aspetta, eh. Wow! Eccolo, qui il nostro astuccio gormitico da portare a scuola o anche in vacanza. A tre scomparti ci sono un sacco di colori gormitici. Apriamoli tutti e due, così io uso le matite e le penelle. Io faccio... Io voglio fare le nuvole rosa. Come le nuvole rosa? Eh sì, io voglio fare le rosa. Ma sono bianche, le nuvole sono bianche. Io le vedo rosa. Io le faccio, io faccio il cielo azzurro allora. Ma, Johnny, non sai che ci sono anche altre cose da portare a scuola, due dormiti? È vero, Giada, mi ha fatto venire in mente una cosa. Arrivo, aspetta, aspetta. Vai, vai, così facciamo vedere i nostri amici. Io intanto continuo a colorare. E tu aspetta. Eccoci! Sono tante cose. Allora, aspetta, questi qua li sposto. Non mi stanno neanche in mano. Allora, così abbiamo lo zaino. Bellissimo, super gormitico. Con le ruote. Questo è bellissimo, mi piace tantissimo perché ha le ruote. Abbiamo i due diari della scuola. Allora, qui abbiamo alfa cario. Io voglio questo, Gianni. Va bene, va bene, prendi quello. Io prendo questo perché c'è alfa cario. Guardate che bello. Qui possiamo scrivere tutti i nostri compiti. Giada. Ci sono tutti i gormiti. Ti ricordi questo zaino? Me l'hai spiegato proprio tu. Sì, certo che me lo ricorda. È il mio preferito. Questo qua è lo zaino magico, io lo chiamo, perché praticamente tu puoi cambiare il disegno. Giusto? Un giorno puoi scegliere questo. Esatto. E poi... Il giorno dopo. Con questa zip noi la togliamo. Si cambia. E si può cambiare. Bellissimo, Giada. Tra l'altro sai quanti gormiti posso mettere dentro il mio zaino? Un sacco però, Gianni. Anche il diario, l'astuccio. Sì, sì. Tutte queste cose per la scuola, i quaderni. Certo, i giochi li uso dopo la scuola. Bravissimo. Però sai chi ci sta aspettando adesso? Lorde Cadill. No, un nostro amico. Andiamo, eh? Ok. Ciao, Fidelito. Ciao. Come stai? Bene. Ma che bello vederti. Sei contento? Sei contento? Sì. Sappiamo che sei un fan super gormitico. Sappiamo che guardi il Gormiti Show, vero? Ciao, Patello. Vediamo se lo vedo. Wow. Elios. Elios, senza mantello? Sì, perché... Ma qual è il tuo premio? Il mio preferito? Il mio preferito... Qual è il tuo Gormita preferito? È titano. È titano. Vedi Gianni che è titano. È titano. Bravissima, è anche il mio preferito è titano. E mi sa che lo sa Federico che è il tuo preferito è titano, vero che lo sai? Hai guadagnato 100 mila euro. Anche è... Ah, vedi. È mio. È me, è della mia squadra. Ma il mio preferito è poi anche un pochino Vulcan. Vulcan, un pochino il popolo del magma, ci sta. Ma il magma è forte, Giada. No, lo so, lo so. Però è il cristallo e il cristallo. Ma senti, noi adesso dobbiamo continuare con la puntata, però prima di salutarti noi facciamo una cosa molto bella e... Devi aprire le braccia così, fai così come noi. No, te non ci sto chiedendo. Ok, apri le braccia. E stringiamo forte, forte. Bravissimo. Perché significa che ci siamo abbracciati, ok? Voi a me mi piacerebbe tanto vedervi con voi e vi voglio pure tanto bene. Ottimo, diamo un bacione. Ma grazie. Un bacione grandissimo. Ora ti salutiamo, un bacione, Fede, grazie per essere stato con noi. Ciao, Fede. Ciao. Gianni, parlare con i nostri amici è sempre emozionante. È vero, se volete partecipare al Gormity Show, basta andare su gormityshow.com e seguire le istruzioni. Noi vi aspettiamo, mi raccomando. Ora già è arrivato il momento della bacheca gormitica. Ti è piaciuta la mia mosso? Hai visto che bello? Bello, bello. Sì, un po' strano. Bella, è bello. Andiamo avanti, va. Allora, ci è arrivato un bellissimo disegno e anche delle foto. Da parte di Giannis. Giannis. Sì, che cosa ci dice? Allora, ci scrive. Ciao, sono Giannis, ho sette anni, nato in Italia, trasferiti in Belgio da due anni, dove faccio la prima elementare in francese e in inglese. Wow, che bello. Che meraviglia, sei le lingue, un sacco di lingue. Vi guardo e vi amo da tanti anni. Grazie. Ma che cucciolo che sei, grazie. Guarda cosa c'è scritto. Allora, ci ha mandato intanto Lord Tritio, che sta combattendo contro Antio. C'è un disegno bellissimo, davvero. Gormitico. E poi c'è la dedica, che ci ha scritto, c'è lui in una posa super gormitica. C'è anche il bracciale, guarda. C'è il bracciale, hai un sacco di gormiti. C'è anche la torre. Guarda qui come li ha schierati i gormiti. Grazie per seguirci dal Belgio. Fantastico. Grazie mille. Bellissimo, grazie mille. Poi ci fa anche una domanda. Sì. Ci dice, come si fa ad andare sul sito dell'e-commerce? Tu sei quella del sito. Sì, dovete andare su shop.giochipreziosi.com E poi fa anche una domanda sul codice sconto, però purtroppo adesso non è attivo il codice sconto, ma se continuate a seguirci, le sorprende non finiscono mai. Esatto, mai, 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 mai. Grazie per averci mandato questi disegni e queste dediche, le tue foto. Continua a mandarci. Sì, mandateli anche voi da casa e andate sempre su gormitishow.com Il sito è sempre quello. Già dalla puntata è finita. Eh sì, dobbiamo salutare i nostri amici. Salutiamo tutti i nostri amici di tutto il mondo, tra l'altro. È vero, è vero, è vero. Comunque ci sono stati parecchi bambini che ci seguono anche fuori dall'Italia. Sì, hai ragione. Quindi salutiamoli tutti, ma cosa devono fare per restare sempre aggiornati con noi? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale speciale di YouTube. E soprattutto iscrivetevi, perché così a me non vi arrivano tutti gli aggiornamenti. Assolutamente. E mettete tantissimi like anche. Spolliciate tantissimo. Un saluto da Johnny. E Zada. Ciao. Ciao!